Il design nelle macchine del lavoro sono sempre di più le aziende italiane che puntano in questa direzione? Sì, in ultimi anni il trend che abbiamo notato nella nostra selezione dei prodotti di design di Adi, Adi Index che poi ogni tre anni diventa anche con Passo d'Oro che è il premio più importante a livello nazionale italiano ma anche riconosciuto a livello internazionale e sta aumentando. Le aziende che producono i prodotti per lavoro hanno capito che devono investire anche nella parte funzionale e chiamiamola anche estetica del prodotto che cercano di coprire i nuovi mercati soprattutto perché in Italia forse sono già consolidati ma prendono un nuovo mercato e in quel caso riescono a creare binomio il prodotto italiano e design italiano. Si ritorna quindi un po' al passato quando lo strumento di lavoro doveva essere funzionale sì ma anche molto curato nei dettagli. Sì, si ritorna in passato e noi siamo anche promotori della idea che fare il bel design o anzi un prodotto bello e un prodotto brutto costa uguale. In fondo in quel caso è meglio fare il prodotto bello. Qualche esempio di macchina da lavoro che può essere arricchita con un valore aggiunto dato proprio dal design? I macchinari che mi vengono in mente sono per esempio macchinari delle catene di montaggio che creano una sensazione della monotonia forse per i operai e le persone che lavorano vicino e dando il tocco di design, ma design pensato bene a semplificare la loro lavorazione e l'utilizzo di questi macchinari e semplificare anche, rendere anche più, chiamiamola anche divertente il lavoro e non monotono e diciamo una delle direzioni importanti che in Italia ci sono tante aziende che fanno questi tipi di macchinari per vari tipi di industrie. Allora Alessandro Liani, titolare di Video Systems. La telecamera è uno strumento ormai di larga diffusione e impiego non solamente a livello privato ma soprattutto nelle nostre città. Quanto è importante il design per uno strumento del genere? Beh, senz'altro per noi il design delle telecamere è molto importante. Tre anni fa siamo partiti con un progetto di rivisitazione dell'oggetto dal punto di vista del design. Abbiamo pensato di renderlo oggetto centrale all'interno delle nostre città, quindi un elemento bello da vedere. Abbiamo inserito delle tecnologie per rendere le telecamere social, quindi abbiamo sviluppato una serie di tecnologie che si appoggiano sui social media per rendere la telecamera un oggetto dedicato alle smart cities, quindi oggetti che possano dare anche dei contenuti multimediali e delle informazioni per vivere meglio nelle nostre città. Proprio in questo periodo sono stato negli Stati Uniti a San Francisco dove siamo stati portati da Confartigianato come una delle sei aziende a rappresentare l'Italia e l'artigianalità italiana nella Silicon Valley. Abbiamo ricevuto un grande applauso per il lavoro che stiamo facendo con la prima collezione Animals della nostra nuova linea Parsons dove abbiamo ridisegnato il design della telecamera in modo scherzoso giocando sulla mimesi degli animali e quindi abbiamo voluto riportare gli animali e la natura all'interno delle nostre città. Andrea Gentile, socio amministratore della GEAS SRL di Pozzuolo del Friuli. Anche un comparto come l'implantologia può essere arricchito ad avere un valore aggiunto grazie al design? Certo, perché il design deve rispondere a quelli che sono i bisogni clinici del professionista che poi sono i bisogni del paziente. Quindi dobbiamo fornire dei prodotti che rispondano a esigenze di estetica, di funzionalità, di semplicità e di sicurezza. Qual è esattamente il tipo di prodotto che realizzate? Sviluppiamo impianti dentali, tutto ciò che necessita per l'inserimento dell'impianto dentale nei macellari dei pazienti, la protesi, quindi tutto ciò che serve per l'odonto tecnico per ricostruire il sorriso nel modo più naturale possibile. Quindi forniamo sia odontoiatri che odontotecnici e forniamo sistematiche implantoprotesiche per la ricostruzione del sorriso. Qual è la migliore applicazione del design in quello del sorriso? Assolutamente! A 360 gradi il design entra dalla progettazione alla produzione fino all'applicazione all'interno degli studi dentoiatrici e poi al monitoraggio di quello che è il risultato nel lungo periodo, quindi con un follow-up nel lungo periodo per verificare effettivamente che il design abbia risposto a esigenze funzionali ed estetiche. Michele Cadamuro, direttore del design di Electrolux Professional. Quanto è importante l'oggetto di design, il contenuto di design per un oggetto destinato ad ambienti pubblici, alla cucina, per i professionisti? Diciamo che il design intanto non deve essere concepito soltanto come bello, cioè il design non è quello che fa un bello un oggetto ma è quello che permette di vendere un oggetto. Quindi il design per un prodotto professionale è comunicare tutti quei valori che un professionista ci aspetta di percepire vedendo un oggetto, quindi valori di robustezza, valori di solidità, di performance. Quindi il design si occupa non soltanto di rendere gradevole un oggetto che la gente comunque si aspetta che lo sia ma anche di trasferire questi valori in modo che poi il cliente sia attratto logicamente e lo scelga rispetto ad un concorrente. Dopodiché il design si occupa anche di trasferire i valori di un'azienda cioè cosa crede l'azienda in un oggetto professionale noi cerchiamo di trasferire i valori dell'azienda anche attraverso un oggetto quindi la sostenibilità ambientale per esempio come trasferire attraverso delle forme la sostenibilità ambientale è difficile ma in qualche modo si cerca di veicolare anche questi messaggi o aspetti di tecnologia un'azienda che propensa alla tecnologia cerca di esprimerla anche attraverso il design quindi io direi che il design, armonia eccetera come siamo abituati a intendere puramente al design ma anche tutti questi aspetti di valore e di robustezza, performance e tecnologia di cui parlavo. Quindi questo è un po' il ruolo nostro quello di comunicare attraverso un oggetto attraverso delle forme, dei colori, delle armonie, delle proporzioni tutto un insieme di valori direttamente attraverso un primo colpo d'occhio che poi è quello che è più importante per un cliente.